...un exequo per il terzo posto, Matteo Cusolo che è segretario del Rishmo Club Italia e Fabrizio Zucchi, vicepresidente, andranno a premiare i due concorrenti che sono arrivati exequo al terzo posto. Allora, terzi classificati exequo, ce l'hai il nome Simone? No, mi avvicino Valentina, per favore. No, ecco, me li dice Mauro. Allora, terzo classificato exequo per questo concorso, daltemi due nomi per favore, velocemente. Siete emozionati? Vai! Vai a vari merito, Susanna Pellegrini e Riccardo Bingozzi. Quaketero Bingozzi. Waalendezza A 고민io. Per favore. Partide, transempra parla ma per favore. Padre Yahweh. Così tutto granito. Il centro libero, difemi centro. E alta. e allora i terzi classificati tornate pure alle vostre postazioni proseguiamo abbiamo credo adesso la seconda i secondi classificati caro Simone vero caro? assolutamente si con gratulazione ai terzi per il secondo posto il premiatore il nostro presidente Roberto Perotti al secondo classificato che è Erwin Cipriano posso si sbagliato? dai bravo va per il primo e allora siamo arrivati una cosa volevo chiedere se c'è un dottore fra coloro che sono qui presenti nella platea per favore se c'è un dottore medico la nella parte destra abbiamo una persona che non si sente troppo bene che se per favore se c'è un dottore se qui volevi pasticceri che io chef mi hanno detto c'è una persona che sta poco bene eccolo là allora stanno andando a dare una mano è importantissimo e a questo punto siamo arrivati al primo classificato vero? sì al primo classificato che prende due premi il primo è il fatto che è più bravo di tutti il secondo che viene premiato dal grandissimo Pier Giorgio Giorini allora siete pronti ve lo dico subito il primo è Giuseppe Caltagirone bravo allora scusami Alex mi dicono che chi ha vinto non è